Il nodo delle tasse sulla casa alla fine si scioglie senza conseguenze. La frenata è il frutto di un'azione combinata di più forze politiche. Il nodo delle tasse sulla casa alla fine si scioglie senza conseguenze. La frenata è il frutto di un'azione combinata di più forze politiche. Matteo Salvini tiene alta la pressione sul governo, disertando il Consiglio dei Ministri. Forza Italia fa arrivare un messaggio chiaro, recapitato da Antonio Tajani in un colloquio diretto con il Presidente del Consiglio, e comunica che una revisione degli estimi catastali non sarebbe accettabile per il Partito Azzurro. Segnali simili arrivano anche dai 5 Stelle. Non è il momento, non c'era alcun riferimento al tema nella relazione delle commissioni finanze e si corre il rischio di destabilizzare il mercato immobiliare. Arriva anche un appello da parte dei sei governatori della Lega decisi nel chiedere garanzie che, né questo né i prossimi governi utilizzino la riforma del catasto per innalzare surrettiziamente le tassazioni sulla casa. Senza dimenticare la presa di posizione di Fratelli d'Italia. Alla fine Mario Draghi tira il freno a mano, ammesso che avesse mai avuto intenzione di portare l'affondo visto che l'idea di fondo è comunque quella di una digitalizzazione dei dati catastali da realizzare in 5 anni per poi passare alla fase esecutiva e a un riequilibrio della tassazione. In ogni caso però le condizioni politiche per un intervento evidentemente non ci sarebbero state. Salvini fin dalla mattinata mette in chiaro le sue intenzioni spiegando perché i ministri del Carroccio non si sono presentati in consiglio dei ministri. Non firmo un assegno in bianco, questa è una patrimoniale sulla casa che è già ipertassata. Il sostegno della Lega al governo non è in discussione quando si tratta di tagliare le tasse. Ci va bene il passaggio che porta all'emersione degli immobili abusivi questo sì. Ogni possibilità attuale o futura di un aumento della tassa sulla casa non potrà avere il sostegno della Lega.